La chiesa pronta per le festività con gli addobbi ed il presepe, ma a lato dell'altare, dietro le prime sedie nel transetto, ci sono sei giacigli, sei materassi appoggiati a terra con coperte e cuscini per offrire un letto a persone senza fissa dimora. Alcuni sono italiani, la maggior parte migranti fuori dal circuito dell'accoglienza e che non riescono a trovare un alloggio. Siamo nella chiesa di Santa Maria del Sile, il parroco Don Giovanni Kirchner, assieme ad un gruppo di volontari, dopo la morte del migrante indiano che dormiva all'addiaccio nel parcheggio delle Piani, ha deciso di aprire le porte della chiesa e l'ha fatto davvero, in senso letterale. Ecco dunque, a due passi dall'altare, il dormitorio consacrato, un po' improvvisato, certo, ma almeno, dicono dalla parrocchia, assicura un tetto sopra la testa e un po' di tepore nelle fredde notti di dicembre. I servizi igienici sono quelli dell'impianto sportivo a fianco della chiesa. Qualcuno nel quartiere ha storto il naso, altri plaudono all'iniziativa, almeno fino a quando, dicono, non verranno ricavati altri posti letto nel vicino dormitorio comunale di via Pasubio, tutto esaurito. Ma già da lunedì le cose potrebbero cambiare. Attiviamo da lunedì l'accoglienza straordinaria presso l'asilo notturno, quindi siamo sempre lì a Santa Maria del Sile, con 14 posti letto in più all'interno dell'asilo notturno. Per fare tutto ciò abbiamo dovuto lavorare in deroga all'attuale capienza e quindi con un serrato confronto con i vigili del fuoco, che devo ringraziare, siamo riusciti a trovare la quadra per poter mettere in sicurezza in questo servizio di accoglienza sia i beneficiari che gli operatori che poi seguiranno quindi oltre una trentina di ospiti. In questo modo verrà assicurato un posto a tutti coloro che al momento a Treviso si trovano in strada. Se basterà per il futuro è impossibile dirlo. Però è chiaro che se ci sono flussi di migranti che arrivano in maniera irregolare e poi si fermano, beh i flussi nessuno ha i numeri e nessuno ce li può garantire. Io sono in contatto con Sant'Egidio, so che anche loro si stanno muovendo e da gennaio probabilmente attiveranno dei posti in più in caso di necessità.